Altro giro, altra corsa, altra rassegna tricolore in arrivo per Paola Piazzolla. Fine settimana dedicato per lei i campionati italiani giovanili di canottaggio in programma sabato e domenica nelle acque del lago di Comabio in Lombardia. La campionessa barlettana sarà impegnata questa volta nel singolo under 23 pesi leggeri e andrà a caccia di un piazzamento sul podio in una gara che vedrà i nastri di partenza. Tanti nomi illustri del panorama nazionale ed internazionale. La donna da battere, almeno secondo i pronostici, dovrebbe essere Federica Cesarini, campionessa italiana assoluta in singolo, vincitrice della seconda tappa della Coppa del Mondo la scorsa settimana nella specialità del doppio e soprattutto compagna di squadra proprio di Paola Piazzolla lo scorso anno a Sarasota negli Stati Uniti nel 4 di coppia pesi leggeri che vinse il titolo iridato. Occhio anche a Clara Guerra, ormai da tre anni singolista e terza classificata proprio nella prova individuale in Coppa del Mondo. L'obiettivo podio ad ogni modo sembra essere concreto per la 21enne atleta delle Fiamme Rosse che insegue la diciannovesima medaglia in una rassegna tricolore in carriera tra assoluti e campionati italiani giovanili. L'ultima, in ordine di tempo, l'ha conquistata due settimane fa sul lago di Varese, vale a dire l'argento agli assoluti nel doppio femminile senior in coppia con Eleonora Trivella. Successivamente ha intensificato gli allenamenti con il suo allenatore Leonardo Pettinari ed è pronta per lanciare questa nuova sfida. L'appuntamento clou della sua stagione in ogni caso è fissato dal 25 al 29 luglio a Poznan in Polonia per i campionati mondiali Under-23 di canottaggio. In quell'occasione la campionessa, cresciuta agonisticamente con la Lega Navale Italiana a sezione di Barletta, non solo difenderà i due titoli iridati giovanili conquistati sia nel 2016 che nel 2017, ma si giocherà soprattutto la possibilità di indossare la maglia azzurra ai mondiali senior in programma dal 9 al 16 settembre a Plovdiv in Bulgaria.